E' appena terminata un'altra bellissima partita tra l'Unis Team e il fronte con la vittoria dei primi per 6 a 2. Qui con me è Salvo Strano, oggi autore di una buona partita, come mi hai ricordato poco anzitù, un bellissimo corso a punizione e ben due assist. Grazie per te, complimenti. Allora, analizziamo la partita, fondamentalmente un primo tempo abbastanza buono, a parte la disattenzione dei primi 30 secondi che con voi fortunatamente è stata pienamente recuperata. Nel secondo tempo siete calati vistosamente ed è dato molto spazio agli avversari per poi riprendervi a fine partita. Sì, siamo calati giustamente perché due settimane che non giochiamo, io sono stato in vacanza, quindi penso un po' a sono stati attivi. Per il resto siamo riusciti a recuperare, dobbiamo sempre migliorare le sviste difensive perché non è possibile rendere due o tre gol a partita così, in modo clamoroso praticamente. Per il resto siamo tra i davanti degli avversari abbastanza buoni, compatti, un po' rocciosi, però alla fine abbiamo vinto perché secondo me siamo più forti. Comunque da questo punto di vista sicuramente la forma atletica vostra è risultata migliore della loro proprio perché sono arrivati ben tre gol negli ultimi 3-4 minuti, quindi comunque la vera vittoria è arrivata proprio grazie a sicuramente la vostra migliore forma fisica. Da un lato comunque voi portavate maggiore tecnica, loro magari maggiore solidarietà difensiva. Sì, abbiamo gente molto tecnica, non è scapellato, autora di ultima partita, a Calini, così, a Basile. Siamo tutti un po' tecnici, non c'è uno alla Gattuso, siamo tutti tecnici, ci divertiamo, speriamo di vincere. Vabbè, grazie. Complimenti ancora a Salvo Strano e a dopo per l'intervista al fronte. Per il fronte Andrea Pappalardo, Andrea analizziamo questa partita, siete partiti benissimo, visto anche grazie alla disattenzione degli avversari, siete passati in vantaggio, purtroppo poi vi hanno recuperato, si è passato con il 2-1, ma il vostro momento migliore è stato sicuramente all'inizio del secondo tempo, molto più offensivi, molto più compatti, avete trovato il pareggio, ma come abbiamo detto, prima la loro migliore condizione fisica, purtroppo, li ha portato alla vittoria. Sì, infatti, hai detto un po' tutto tu, perché il primo tempo è stato, diciamo, alla parte, cioè ci siamo giocati fino alla fine, poi il secondo tempo siamo riusciti a recuperare il gol di svantaggio, purtroppo, col fatto che abbiamo subito il 3-2, ci siamo sbilanciati un po' in avanti e non siamo riusciti più a contenere, diciamo, loro contropiedi. La partita, secondo me, è stata abbastanza equilibrata, purtroppo, gli ultimi minuti hanno fatto, diciamo, fatto nascere questo punto di giro sui guardi, però fino a 5 minuti alla fine ce la stanno giurando. Da questo punto di vista, sicuramente avete resistito, diciamo, fino alla fine, ma c'è da dire che i vostri avversari pressavano in una maniera forse nata nella vostra area di rigore. Abbiamo visto, infatti, molto spesso Magri e Pennisi, che sono comunque i due che creano il gioco nella squadra, molto marcati dagli avversari sette volte anche con due uomini e questo, appunto, gli impediva di portare avanti la manovra. Sì, sicuramente loro pressavano molto e chiaramente questo qua ci istruiva la creazione del gioco, però alla fine sappiamo che gli avversari, diciamo, ormai, bene o male, un po' tutti ci conosciamo, quindi sanno come giochiamo, quindi cercheremo di rifarci nella prossima partita. Grazie, allora Andrea Pappalardo, per questa sera è tutto e ci vediamo mercoledì.